Presidente Rampelli, onorevole Gemmato, prego. Sì, grazie Presidente. Io esprimo al netto degli interventi di questo pomeriggio, avendo seguito con tutto il gruppo di Fratelli d'Italia il dibattito d'aula rispetto al decreto in conversione, dichiaro la mia insoddisfazione, delusione, amarezza, non so quale aggettivo utilizzare, per rappresentare uno stato d'animo mio, intimo, di persona che fa politica e crede nella politica da sempre, rispetto al fatto che noi, come opportunamente rappresentato dai colleghi che mi hanno preceduto, l'onorevole Rampelli, l'onorevole Montaruli, mettiamo mano alle libertà individuali, stralciamo quanto affermato dall'articolo 13 della nostra Costituzione, sostanzialmente superando, restringendole le libertà personali, e lo facciamo in un'aula deserta, lo facciamo in un'aula sorda, lo facciamo in un'aula che non si pone il problema oggi che noi stiamo, come dire, costituendo un pericolosissimo precedente, un pericolosissimo precedente. E non devono in questo confortarci le parole del esimio costituzionalista cassese. Ora, da persone che fanno politica, da operai della politica, da gente che ama il proprio popolo, riteniamo che l'iter di questa conversione avrebbe dovuto seguire un tutt'altro iter e dibattito parlamentare. Io ho qui a fianco il Presidente della mia Commissione, col quale abbiamo evidentemente ottimi rapporti, col quale cerchiamo di interagire, col quale cerchiamo di costruire e migliorare la nostra nazione, perché noi vogliamo stare insieme tutti quanti in questo momento da questa parte della barricata e non dall'altra, senza contrapposizioni. E ho apprezzato lo sforzo di far passare un emendamento, peraltro prodotto dalla collega Bellucci, presente in aula evidentemente questa sera, come gran parte del gruppo di Fratelli d'Italia, e lo apprezzo, l'abbiamo apprezzato, ma non è questo, Presidente, lo dico al Governo, non è questo che noi ci aspettavamo. Nel momento in cui si vanno a coartare delle libertà individuali previste e sancite nella nostra Costituzione, noi ci aspettavamo un'apertura, un'apertura forte, non un emendamento, non gli emendamenti, no, insieme a una visione, una visione di quella che deve essere la gestione di questo momento particolare. Io ho avuto l'onore di intervenire, per nome del gruppo, quando forse il 31 gennaio, il primo marzo e il primo febbraio, è venuto l'onorevole Speranza in Parlamento a riferirci delle prime evidenti storture che questa fase pandemica poteva portare alla nostra nazione. E a nome del gruppo, io ho rappresentato parole di collaborazione. Tutti insieme abbiamo esaltato il nostro sistema sanitario nazionale, il quarto sistema sanitario nazionale al mondo. Tutti quanti insieme, il gruppo di Fratelli d'Italia, mi permetto di dire, l'intero Parlamento ha dato delega al governo dicendo però lavoriamo insieme, immaginiamo insieme come poter affrontare questo momento di difficoltà per il nostro popolo. Che io voglio ricordare non è soltanto un momento di difficoltà sanitario, è un momento di difficoltà economico. Io vengo da una regione, la Puglia, che grazie a Dio, grazie a San Nicola, grazie ai Santi, ai quali noi siamo tutti quanti votati come credenti, non è stata toccata dalle brutalità di questo virus. Porto la mia solidarietà agli amici e colleghi del Nord che invece hanno apprezzato in maniera crudele la forza devastante di questo virus. E' proprio per questo io, Presidente, ieri in fase di dibattito non ho accettato le parole dei colleghi del PD che richiamavano in fase strumentale mentre ci vengono quartate libertà personali parlava dell'RSSA della Lombardia, parlava delle responsabilità non so di chi e non so di che cosa rispetto a un'emergenza e rispetto a delle morti che ci hanno colpito. Perché io poi, scendendo nel concreto, lo voglio dire, ora, nella produzione, o meglio, nella sovrapposizione e sovrapproduzione legislativa alla quale noi abbiamo assistito in queste settimane, in questi mesi, tante volte noi siamo andati incontro anche a direzioni opposte. Ora, voglio dire che, e lo leggo, che nel decreto legge in conversione numero 19 alla lettera C del secondo comma primo articolo si dice che la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori alle strutture di ospitalità e lungo degenza residenza sanitaria assistita RSA ospis sostanzialmente è facoltativo cioè si dà alle regioni la facoltà di poter tenere aperte o chiuse le stesse. tant'è che poi in fase emendativa forse diventa più stringente perché c'è un emendamento di commissione dove c'è divieto o limitazione d'accesso. Comunque i DPCM comunque le ordinanze comunque gli atti prodotti dal governo hanno un tratto comune che è il tratto della possibilità interpretativa e questo ha portato il caos per chi crede come me nel sistema sanitario nazionale per chi crede come me nella nazione nello Stato noi dobbiamo avere un unico indirizzo soprattutto in questi momenti di difficoltà l'indirizzo deve essere unico invece nella sovrapproduzione legislativa che io citavo abbiamo assistito alla fattispecie per cui il governo dice qualcosa ma limita le libertà poi dice qualcosa ma dice anche il contrario e rende interpretabili le stesse l'ignominia qual è? che poi a doverle applicare sono gli amministratori locali immagino i presidenti di regione che però hanno strumenti e strutture per farle ma soprattutto i sindaci quegli eroi che noi non ringraziamo mai tanto come dovremmo che sono i nostri presidi dello Stato sul territorio che si trovano senza strumenti a dover controllare i territori a dover controllare le persone positive al coronavirus se aderiscono o meno a come dire dettami di carattere restrittivo devono soprattutto poi compendiare la pace sociale che è diciamo forse uno ed è il compito più difficile e lì si dice che si può fare tutto e il contrario di tutto lo faccio da fratello di un sindaco di un paese della provincia di Bari Terlizzi dove sostanzialmente viene detto nel decreto in conversione che si possono aprire i piccoli dettaglianti che hanno diciamo prodotti deperibili di carattere agricolo possono aprire però poi lo possono fare in maniera aggregata e quindi il mercato dei fiori che è l'asset strategico quello florovivaistico della della città di Terlizzi non si sa se si possa o non si possa aprire un sindaco è costretto in forza di una norma confusa e affrettata a dover chiedere al prefetto conforto il prefetto aspetta nel dare risposta perché evidentemente immagino questa norma non è chiara per contro altri mercati penso al mercato trionfale di Roma più piccolo meno strutturato viene aperto giustamente il produttore florovivaistico terlizzese dice ma perché aprono il mercato trionfale di Roma e non apriamo il mercato dei fiori di Terlizzi questo crea un cortocircuito che genera tensione sociale e soprattutto carica di responsabilità un sindaco che evidentemente in questo momento non ha responsabilità uno stato degno di nota una nazione con la N maiuscola non lascia i propri uomini sul territorio in questa maniera ma dovrebbe essere al loro fianco e questo purtroppo non è e in questo dibattito sul tema della conversione noi lo dobbiamo lo dobbiamo dire in maniera chiara come siccome mi è dispiaciuto che nel dibattito come anche nelle parole del ministro Conte chiunque sia intervenuto della maggioranza ha chiuso gli occhi e ha immaginato e questa immaginazione poi si concretizzava in cosa? Nell'utilizzo di parole al futuro io me le sono appuntate se riesco a trovare ci divertiamo insieme nel capirne la tragica verità ecco come alzolo tu vabbè non si trova vado vado a memoria il premier Conte dice diceva stamattina e anche negli interventi d'aula nei pochi interventi d'aula devo dire della maggioranza anche di questo io ne vorrei parlare noi stiamo coartando le libertà personali stiamo muovendo vivendo un momento difficilissimo della nostra nazione ad intervenire per ogni gruppo come per fare il compitino a casa perché tanto viene prescritto dalla abitudine d'aula vi è un rappresentante per gruppo parlamentare con orgoglio dico che il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia presente in massa interviene in massa e forse il 50% degli eletti di Fratelli d'Italia è qui ed interviene e porta un contributo fattivo a questo dibattito d'aula dicevo il presidente Conte lo dico così come i colleghi faremo vedremo è allo studio lo verificheremo tutti futuri ma io voglio ricordare che lo stato d'emergenza è stato proclamato in questa nazione il 31 gennaio sono passati tre mesi e noi parliamo al futuro che faremo diremo nel frattempo però c'è il popolo italiano che ha fame nel frattempo però ci sono le partite IVA i professionisti i disoccupati i lavoratori che purtroppo in questo momento non percepiscono reddito e che nelle maglie dello stato sociale disattrezzato che noi purtroppo stiamo vivendo non sono tenuti allora chi ascolta oggi da casa così come chi ascolta le dirette televisive come dire sfavillanti intelligenti nel senso che sono allocate in un periodo orario in cui vi è una grande un grande seguito una grande audience di persone poi alla fine si chiedono ma il mio presidente del consiglio il mio padre cosa ha detto io domani vado a fare la spesa io domani guardo negli occhi mio figlio che cosa li racconto allora noi vorremmo e avremmo voluto che nel dibattito d'aula ma soprattutto nella superproduzione governativa di queste settimane e di questi mesi perché sono passati tre mesi ci fossero state delle parole di verità di certezza il 14 aprile arrivano i 600 euro e dire il 14 significa dire il 14 né il 13 né il 15 perché chi si deve organizzare chi ha una famiglia chi ha delle scadenze chi ha una dignità non può vedere stralciata questa dignità e ogni giorno magari collegarsi al computer per entrare nel suo sistema operativo nel suo conto corrente bancario e vedere se li sono arrivati i 600 euro o meno perché quella non è quella non è beneficenza quella non è la regalia quello è il conforto di uno Stato che ti ha detto di chiudere il tuo esercizio che ti ha detto di non uscire che ti ha detto di non lavorare e che proprio in questo momento deve essere e si deve far sentire al nostro fianco e purtroppo tanto non è quindi noi parliamo al futuro in questo parlare al futuro dei colleghi lo dico delle forze di maggioranza non citerò i nomi per correttezza perché sono assenti in realtà penso che non ci sia quasi nessuno non lo dico in tono polemico fotografo una realtà la realtà è alle mie spalle della maggioranza non vi è nessuno quindi non li citerò per non citarli in contumacia ma molti chiudevano gli occhi e anche loro sognavano sognavano una sanità migliore sognavano una sanità incardinata sul territorio sognavano che i medici di medicina generale dovessero rappresentare la nuova frontiera poi io anche io a un certo punto col collega De Idda che con me ha seguito tutti gli interventi come del resto in gran parte del gruppo di Fratelli d'Italia in maniera alternata salvatore abbiamo aperto gli occhi e ci siamo resi conto il territorio ma scusami chi mi dice che negli ultimi dieci anni il sistema sanitario nazionale è stato disattrezzato che cita Nino Cartabellotta e la Gimbe una società di ricerca che ci racconta che negli ultimi dieci anni sono stati sottratti 37 miliardi al sistema sanitario pubblico ma chi ce lo dice non sono quelli del Partito Democratico e scusa salvatore e chi del Partito Democratico ha governato di l'EU chi ha governato negli ultimi dieci anni ora noi abbiamo l'onore di stare in questo Parlamento da due anni quindi in realtà diciamo non facciamo una sorta di scaricabarile ma abbiamo il Partito dei Fratelli d'Italia ha festeggiato il settimo compleanno il giorno del mio compleanno quindi ero giovane anche io e quindi grazie quindi non facciamo il gioco dello scaricabarile ma sicuramente il centro d'estratutto non è compromesso nella gestione degli ultimi dieci anni e poi scendiamo nel nel pratico la disarticolazione della rete urgenza assistenza del territorio quando è stata fatta il DM70 del 2015 è stato prodotto evidentemente nel 2015 ma con che targa politica è stato fatto da quale maggioranza politica e cosa prevedeva il DM70 del 2015 per l'amore di verità il decreto il DM70 del 2015 prevedeva e prevede una destrutturazione della rete territoriale ospedaliera che doveva essere compensata da un territorio attrezzato quindi i medici di medicina generale i medici di continuità assistenziale i dipartimenti delle ASL sul territorio bene se fatta in maniera puntuale la prima cioè gli ospedali sono stati chiusi in Puglia sono stati chiusi decine di ospedali in Puglia l'assistenza sanitaria è stata mortificata in Puglia oggi noi abbiamo al meridione ringraziamo sempre San Nicola l'ho detto prima abbiamo avuto pochissimi contagi pochi morti ma abbiamo la percentuale più alta di mortalità di tutto il meridione e questo sapete perché perché i casi che arrivano in ospedale sono quelli conclamati che ha ormai un quadro fisiopatologico compromesso e che quindi non essendo stato trattato dai medici di medicina generale dal territorio arriva in ospedale che è già compromesso e muore ora noi non possiamo fare finta che siccome in Puglia abbiamo avuto l'uno virgola qualcosa di morti siamo sereni perché anche dopo la virgola anche dopo se è un 1,03 quello 0,03 rappresentano uomini donne anziani nostri nonni che non ci sono più e noi dobbiamo rispetto a loro e non possiamo nasconderci dietro il fatto che le cifre sono basse e quindi il tema della disarticolazione del sistema sanitario sul territorio grida vendetta perché certamente questa parte politica non se ne può ascrivere le responsabilità e né noi possiamo assistere ormai a questo situazionismo per cui ogni persona che viene qui a parlare fa finta che non sia mai responsabilità sua perché magari all'epoca non si chiamava PD si chiamava PDS ma perché i 5 Stelle non erano perché lo dico anche i collegati con il Partito Democratico ci governate voi le responsabilità politiche di quelle scelte scelerate negli anni le avete anche voi perché avete e governate con quella forza politica che tanto male ha fatto alla nostra nazione così come la determinazione per cui tante delle scelte non vengono prese da chi naturalmente lo dovrebbe fare ovvero da chi riveste ruoli dirigenziali nelle ASL e soprattutto dall'indirizzo politico che dovrebbe dare il governo e quindi i tanti ministri e sottosegretari che vive Dio una democrazia compiuta come l'Italia ha no noi oggi ci troviamo di fronte alla proliferazione di incarichi alla proliferazione di figure più o meno competenti più o meno attrezzate che si trovano purtroppo a dover prendere decisioni o dare suggerimenti a una classe politica che già ha le strutture per farlo perché io voglio ricordare noi abbiamo dei ministeri attreziati abbiamo dirigenti di questo Stato e di questa nazione pagati in diretta correlazione alla loro capacità e sono estremamente capaci e quindi non abbiamo bisogno di proliferare di esperti ma anche in questo e non lo dico in tema polemico ma come chiave di verità ma è possibile che in questa task force non vi siano farmacisti ma è possibile che non ci siano veterinari ma è possibile che non ci siano tecnici della prevenzione ora la fase 2 noi come la vogliamo fare voi sapete che i medici veterinari che i tecnici della prevenzione sono quelli che costituiscono il cosiddetto dipartimento di prevenzione che è uno strumento delle ASL e che serve proprio a fare ciò che noi dovremmo fare nella fase 2 cioè assicurare la sicurezza sul lavoro fare l'analisi di acque fare l'analisi degli alimenti fare l'analisi anche dell'inquinamento ciò che oggi noi serve e non vi è un medico veterinario e non vi è un tecnico della prevenzione nelle cosiddette task force anche in questo ci racconta di un'approssimazione non voglia di Dio di una voglia di premiare l'amico perché fedele perché amico di classe pare così sia avvenuto per uno dei tanti nominati del potente di turno e non le qualità e non le professionalità che comunque continuo a ribadire noi possiamo trovarle a piene mani e prenderle nelle nostre strutture nelle nostre strutture pubbliche che dire presidente la delusione rispetto a ciò che sta avvenendo nella nostra nazione è tanta ed è una delusione derivante dal sentimento lo chiamo del fidanzato tradito noi abbiamo giurato amore e fedeltà in tema da patrioti in tema di sanità e in tema di gestione di questa criticità a questo governo lo abbiamo fatto abbassando le difese lo abbiamo fatto in maniera leale lo abbiamo fatto in maniera semplice e genuina siamo stati invece trattati nel peggiore dei modi non ci è stata fatta toccare palla non abbiamo potuto dire la nostra non abbiamo potuto come dire influenzare positivamente positivamente gli atti prodotti ciò genera delusione ma non genera rassegnazione noi di Fratelli d'Italia ci saremo noi di Fratelli d'Italia continueremo ad essere in quest'aula noi di Fratelli d'Italia continueremo a dare il nostro contributo alla nostra nazione perché siamo una forza patriottica e tanto facciamo grazie grazie a lei deputato Gemmato ha chiesto di parlare la deputata Ilen